Amici e amici di Rossini TV, benvenuti, benvenuti a tutti voi. La prima puntata del nostro format televisivo WePesaro TV, un vero e proprio rotocalco di informazioni sulle iniziative del Comune di Pesaro. Subito vi presentiamo la prima ospite della prima puntata, l'assessore del Comune di Pesaro, Mila Dell'Adora, assessore alla coesione e al benessere. Ciao a tutti e grazie a voi per l'invito. Grazie all'assessore per essere con noi. Vi spieghiamo brevemente come sarà strutturata la nostra trasmissione. Ogni due settimane, quindi ogni due sabati, potrete vedere questa sorta di riepilogo dei fatti principali accaduti nella città di Pesaro e che il Comune ha piacere di condividere con gli ascoltatori e con i concittadini. Per esempio nel primo caso, nel caso della prima puntata, partiamo subito da quello che è un pochino l'evento che il Comune sta portando avanti in questo periodo nelle nostre case, nei nostri quartieri della città di Pesaro ed è proprio il cosiddetto giro dei quartieri. Assessore. Di cosa si tratta esattamente? Allora, il tour del sindaco è un format che già anche negli anni passati, pre-Covid, avevamo sperimentato. Un bel modo per confrontarsi con i cittadini sulle esigenze, sulle problematiche e per insieme a loro condividere quelli che sono i progetti futuri e quello che è stato fatto nella nostra città. Era importante essere di nuovo fra la gente, soprattutto dopo un anno e mezzo di pandemia, sono mancati questi momenti di confronto. Momenti di confronto nei quali sono presenti non solo il sindaco, non solo la giunta, ma anche consiglieri comunali, consiglieri di quartiere e presidenti di quartiere che fanno un lavoro straordinario perché ricordiamo a tutti sono dei volontari, sono dei volontari a servizio della collettività. Già sono stati visitati cinque quartieri, giusto? Sì, esatto. Abbiamo visitato, allora siamo partiti dal quartiere 6, San Bartolo, poi abbiamo fatto quartiere Centro, quartiere Portomare, quindi quartiere 1, quartiere 11, il quartiere 12, il quartiere Pantano e il quartiere di Vismara, il quartiere 5. Che è l'ultimo in programma che è stato proprio ieri. Esatto, quindi poi successivamente nelle prossime settimane, uno o due a settimana, saranno diciamo calendarizzati tutti. Ma allora questa divisione dei quartieri di Pesaro, parliamo di 12 quartieri, da dove nasce in realtà l'idea proprio di dividere, di suddividere in questo modo così preciso la città di Pesaro, secondo una vera e propria, definiamo la pianta organica con questi 12 quartieri? Allora, inizialmente erano diciamo ancora di meno, ricordo insomma che prima c'erano le circoscrizioni, poi sono state abolite diciamo per i comuni, diciamo più piccoli come quello del comune di Pesaro. Però abbiamo deciso come amministrazione comunale di mantenere questo presidio sul territorio. Nella precedente legislatura erano 10, abbiamo deciso di portarli a 12 appunto per essere più capillari e quindi poter essere presenti appunto con i consigli di quartiere, con i presidenti e con i propri consiglieri. Sono delle realtà straordinarie perché veramente i cittadini si confrontano spesso con quelli che sono i referenti di quartiere. Ricordo anche ai cittadini di non essere troppo esigenti verso i presidenti consiglieri di quartiere perché di fatto sono volontari e loro ogni cosa che viene sottoposta poi la sottopongono all'amministrazione comunale. È un modello anche questo molto british, sappiamo che in Gran Bretagna i politici dedicano proprio dei giorni della settimana per andare a parlare con la gente ma a ogni livello, quindi il fatto che nella nostra città ci sia questa possibilità è davvero meritorio perché permette a tutti, a parte le esigenze, a parte i discorsi come si dice sempre, delle buche nelle strade che sono quelli che vediamo per primi, però di avere questo confronto continuo con l'amministrazione. Sì, anche perché sono tanti i luoghi che tocchiamo, dalle aziende piuttosto che le attività economiche, ma incontri in strada, lungo una pista ciclabile, piuttosto che centri sociali, impianti sportivi, quindi diciamo che sono veramente tante le realtà dei quartieri che tocchiamo, anche le parrocchie, insomma abbiamo avuto incontri trasversali un po' ovunque, dove c'è chi ci vuole accogliere, noi ci fermiamo e dove c'è qualcuno che eventualmente ha da dire qualcosa, noi siamo pronti ad ascoltarlo. A recepire, certo. Sono due anni che non si svolge il tanto amato, negli ultimi anni è diventato tanto amato, Palio dei Braceri, che peraltro era proprio la realizzazione anche del campanilismo che esiste fra i vari rioni. Cosa dice Assessore? Quest'estate, se tutto andrà bene, potrebbe riproporsi quest'estate, intendiamo nell'estate del 22 ovviamente, quella del 21 è appena finita. Dipende appunto dalle condizioni, perché purtroppo la pandemia ha limitato tanto e tutto, però è un evento sicuramente che ha caratterizzato molto la nostra città, è un evento che già stimolava dall'inverno la creazione delle coreografie, piuttosto che la realizzazione della squadra che poi partecipava, con tutto quello che c'era attorno. E insomma, perché no? Se poi le contrade, perché poi ci vogliono le persone che poi ci lavorano per una cosa di questo genere, quindi insomma, se ci sono le condizioni, perché no? Bene, speriamo davvero che sia così. Poi, fra le altre cose, la nostra trasmissione sarà un vero e proprio Tg. In poche parole, vi presenteremo dei servizi su iniziative che sono avvenute proprio in questi ultimi giorni e il primo che intendiamo presentarvi riguarda la pista realizzata, peraltro il progetto che vi faremo vedere, della ciclo rotellistica. È proprio una pista che è dedicata esclusivamente a quello. E adesso vediamo il servizio. Gli applausi di Valentina Vezzali e Cordiano Dagnoni in collegamento Skype rintoccano all'unisono con la soddisfazione di Matteo Ricci e di Mila della Dora, che dal municipio pesarese sfoglia e sbandiera un progetto che dopo il lungo travaglio riceve finalmente l'ok per passare dalla carta ai cantieri. Pesaro avrà una nuova struttura sportiva che aspettava da anni, quella dedicata alle tante realtà ciclistiche cittadine che si erano legate al dito una promessa fatta al tempo dell'abbattimento del velodromo interno allo stadio Benelli. Esulta il ciclismo cittadino, esultano anche le società di pattinaggio, perché quella che sorgerà in zona torraccia alle spalle di Vitri Frigo Arena e Rossini Center sarà di fatto una pista ciclorotellistica, ovvero un circuito ciclistico di 2037 metri omologato per competizioni nazionali con al suo interno un anello di 600 metri dedicato al pattinaggio di velocità. Un impianto dalla storia tormentata, ricordato Ricci, atteso per anni fino all'incontro con l'ex regina della scherma Valentina Vezzali, oggi sottosegretario con delega allo sport alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Vezzali che si è mobilitata per il reperimento di risorse ad hoc. Un contributo decisivo come quello del presidente della Federazione Nazionale Ciclismo, Cordiano Dagnoni, che ha rafforzato la bontà della richiesta pesarese anche in termini sociali. Ecco allora 800.000 euro di finanziamenti statali che completeranno i 700.000 investiti dal Comune. Esulta Mila della Dora, Pesaro, città della bicicletta, avrà il suo impianto dedicato agli allenamenti delle due ruote. Come amministrazione siamo veramente soddisfatti di poter dare una risposta a quello che è un movimento sportivo importante, il movimento ciclistico. Abbiamo tanti ciclisti che sono in strada e quindi volevamo dare un impianto che permettesse anche di allenarsi in sicurezza, ma anche un impianto che desse una risposta all'attività di base. Abbiamo tanti ragazzi appassionati, tanti giovani ciclisti che vanno ad allenarsi altrove. Ecco, vogliamo dare una risposta a loro, vogliamo che il movimento ciclistico possa ripartire nella nostra città, quindi dando un impianto che è veramente un'eccellenza a livello nazionale. La pista, collocata fra Via Gagarin e Via Grande Torino, attende ora solo l'approvazione definitiva per la gara di inizio lavori che si conta di far partire in primavera e completare nel giro di sette mesi. L'impianto che permetterà l'uso, come ha detto anche l'assessore, anche a livello agonistico potrà essere omologato, avrà una pavimentazione in asfalto, uno strato di base in binder, successivamente un tappeto sempre in binder con delle fasce di sicurezza laterali e lungo tutto il percorso sono realizzate anche delle piazzole che potranno ospitare delle tribune e degli spazi per giudici e commissari di gara. Apriamo il progetto, quindi dopo aver visto le immagini relative ve lo facciamo vedere in maniera così abbastanza relativa attraverso le nostre telecamere, ma è questo, peraltro si sviluppa in una zona molto vicina dove c'è la sede di Rossini TV, dove c'è la Vitri Frigo Arena. Assessore, questo progetto da dove nasce? Come nasce quest'idea? Diciamo che sono anni e anni che il movimento ciclistico e rotellistico manifesta la necessità di avere un impianto adeguato, soprattutto anche dopo l'abbattimento del velodromo allo stadio Benelli. Questo è la rielaborazione di un vecchio progetto che era del 2010, quindi io sono arrivata qualche anno dopo e avevo sulla scrivania questo progetto che ho sempre tenuto lì perché penso che un impianto di questo genere per una città di quasi 100.000 abitanti sia necessario. Il movimento ciclistico è un movimento, diciamo, impercettibile o percettibile in parte perché comunque vediamo tante persone che sono in giro per le strade ma se le mettiamo tutti in un impianto chiuso sono veramente tante perché ne parlavo anche qualche giorno fa con una persona, molte persone smettono di fare sport poi anche in età magari adulta cosa prendono? Prendono una bicicletta. Un impianto sportivo in sicurezza permetterebbe loro comunque di allenarsi in sicurezza ma permetterebbe anche a tanti giovani di poter sperimentare il ciclismo come sport e quindi c'è questa doppia funzionalità, quello di tenere in sicurezza e quello di fare in modo che il ciclismo giovanile possa ripartire anche nella nostra città perché molti ragazzi che decidono di fare ciclismo vanno ad allenarsi altrove. In più c'è un anello che riguarda la rotellistica, quindi diciamo il circuito è di quasi due chilometri, quello esterno, mentre quello interno è di circa 600 metri. È un progetto che è stato condiviso anche con la federazione ciclistica e rotellistica nazionale e quindi il mio augurio è che presto si possa realizzare. I soldi ci sono, dobbiamo pensare adesso a fare il bando, l'augurio è che in primavera si possa partire con la realizzazione. I tempi sono di sette mesi, quindi nel 2023 vederlo concretizzato e vedere le persone girare. Sì, anche perché ultimamente questo concetto è stato ripreso anche nelle altissime sfere. I soldi ci sono, l'importante è spenderli presto e spenderli bene. L'ha detto qualcuno di molto importante che è in altri locali di solito. Quindi sicuramente anche perché pesano la città delle due ruote, quindi avere un ulteriore qualcosa che caratterizzi la città sulle due ruote per la bici è davvero importante. Sicuramente, è un progetto co-finanzato anche dal governo, ricordiamolo. Noi ci crediamo, tant'è che sono anni che proviamo a portarlo avanti e questo sembra che sia l'anno deciso. Che peraltro questo concetto di pesaro legato molto alla bicicletta davvero avvicina la nostra città all'Europa e non a caso mercoledì è stata inaugurata nel quartiere di Baia Flaminia e anche qui non a caso in Piazza Europa la prima panchina europea delle marche. E vediamo anche qui le immagini realizzate da Rossini TV. L'inaugurazione oggi della panchina europea qui a Pesaro, quali contenuti, quali significati ha questo progetto? Questo è un piccolo gesto che abbiamo fatto come Movimento Federalista Europeo e Gioventù Federalista Europea per ricordare che siamo tutti cittadini europei. In questo momento l'Europa è sotto gli occhi di tutti, ha dato una risposta concreta e utile per l'Italia e per gli altri paesi per rispondere alla pandemia. Siamo chiamati comunque come cittadini anche a contribuire alla conferenza sul futuro dell'Europa che è in corso e alla quale possiamo portare idee e contributi come singoli cittadini e come movimenti. Il nostro gesto vuole ricordare che siamo uniti nella diversità e come popoli d'Europa abbiamo costruito un grande progetto e dobbiamo portarlo avanti. Qui nelle Marche inaugureremo domani a Fano e ad Ancona, poi Falconara Marittima, poi durante la primavera probabilmente ci saranno altre città che aderiranno. Abbiamo il patrocinio dell'AIC Remarche e quindi siamo molto contenti che la regione sia tra quelle che hanno aderito maggiormente a questo progetto che ha visto tra l'altro già altre inaugurazioni in altre parti d'Italia, a Lecco, a Latina, a Bergamo e quindi sono molte le panchine europee in ogni città già. L'idea è nata da una panchina europea realizzata dal Movimento Federalista Europeo di Lecco ed è stata imbrattata con simboli nazifascisti dopo 24 ore. Allora abbiamo cercato di attivare una raccolta fondi per sistemare la panchina e diffondere il progetto in tutta Italia. Siamo stati contenti perché si è attivata una rete di solidarietà tra tutte le sezioni locali del Movimento Federalista Europeo e altre associazioni. Una panchina perché la panchina è un luogo di incontro per tutti, è trasversale per il bambino che passeggia, per l'anziano che si riposa, per la famiglia che fa una passeggiata. Quindi è un importante luogo di incontro ed è la metafora di quello che vorremmo noi fosse l'Europa. La cosa bella di questo progetto è che ogni panchina ha la sua particularità, in particolare si aderiscono al territorio. Per esempio ad Avellino, l'altro ieri abbiamo scritto cittadini di Avellino, cittadini europei. A Lecco, cittadini lecchese, cittadini d'Europa. Qui abbiamo scritto il motto dell'Unione Europea che è unità nella diversità e anche in varietà te Concordia perché è il motto stesso di Pesaro a Concordia nel nome. È una bella iniziativa dove l'amministrazione comunale ha deciso subito di patrocinarla e sostenere questa iniziativa che nasce dalla gioventù del Movimento Federalista Europeo e vuole lasciare un messaggio chiaro e semplice che l'Europa siamo tutti noi, quindi un messaggio in una piazza anche che ha un valore importante. Dietro c'è la biblioteca, un luogo molto frequentato dai giovani, giovani che sono i primi ad aver capito forse anche la grande opportunità che significa stare in Europa, un'opportunità che loro, tanti giovani hanno colto anche sfruttando l'Erasmus, ma non è solo questo, è tanto di più, ci sono tanti valori, tanti ideali, la pace, uno dei primi grandi obiettivi che l'Unione Europea si era prefissata e che ha raggiunto. Quindi questo è un simbolo semplice, semplice da capire, chiaro che si vede di colore e di impatto in una bella piazza e quindi una bella iniziativa, davvero grazie a tutti i ragazzi che si sono messi sotto la pioggia a realizzare questa bella panchina. Bene, viste queste immagini, Assessore, anche la panchina europea è la testimonianza della volontà proprio di coesione, di europeizzazione della nostra città. Chi viene da Fano, per esempio, vede all'inizio della città di Pesaro, tutti i gemellaggi della città di Pesaro sono veramente tanti e ci dà davvero questa impressione di essere inseriti in un contesto molto più ampio della nostra provincia, della nostra regione, addirittura della nostra nazione. Sì, il luogo scelto non è casuale perché siamo in Piazza Europa, un luogo frequentato da tanti giovani. Questa panchina vuole sensibilizzare e avvicinare tante persone a quelle che sono le tematiche che riguardano l'Europa, quindi di integrazione, di accoglienza e di condivisione di tanti progetti. Poi, fra le altre cose, l'assessore Mila della Dora, fra le tantissime cose che ha, tra le tante deleghe che abbiamo visto nel comune, c'è anche una delega molto importante, che è la delega alla famiglia, alla sua famiglia, quindi c'ha due giovanissime figli che tra poco probabilmente le vedremo anche impegnati nel progetto Erasmus. Ancora c'è qualche anno, diciamo, prima che, pardon, però perché no? Io glielo auguro perché comunque essere a contatto con persone diverse, con culture diverse, aiuta a essere persone, penso anche migliori e con una mentalità più aperta. Ma se è vero che Pesaro si apre all'Europa, si apre al continente attraverso questa panchina europea, ripetiamo, la prima delle marche, è altrettanto vero che è molto, molto vicina alle esigenze quotidiane di tutti noi, dei cittadini, di tutti coloro che per esempio hanno una casa. E anche in questo caso, proprio ieri, è stato presentato in comune con una conferenza stampa il progetto Orienta Casa e anche qui vediamo il servizio. Sarà un vero e proprio nuovo servizio, un servizio completamente gratuito per il cittadino in un luogo centrale, qua in Piazza del Popolo. Come sapete ormai sono diversi mesi che il comune ha spostato lo sportello in forma servizi da Largo Mamiani a Piazza del Popolo. Lo sportello in forma servizi è il primo punto di incontro tra il cittadino e l'amministrazione. E in questo sportello sarà realizzato, grazie alla disponibilità e alla collaborazione da parte di professionisti che hanno subito aderito al protocollo d'intesa, ci saranno quindi notai, ci saranno commercialisti, ci saranno la FIAIP, che sono gli agenti immobiliari, per dare un servizio che ruota intorno al mondo della casa. La casa è un bene primario, un bene importantissimo, su cui in questo momento si sono accesi in particolar modo i riflettori, anche perché è ripreso un certo dinamismo nella compravendita degli immobili, nella locazione, in quelli che sono anche gli interventi legati ai bonus. e questo sportello servirà a dare tutte le informazioni da professionisti, come dicevo, quindi commercialisti e notai, e tutti coloro che possono preparare il cittadino nel momento in cui si appresta ad acquistare un immobile, quindi tutte le informazioni che ruotano intorno sia alla compravendita, alla locazione, all'accesso al credito e anche ai bonus. Quindi è un servizio completamente gratuito, offerto da questi professionisti, che si renderanno disponibili due giovedì al mese, un giovedì ogni 14 giorni, in orario pomeridiano. Un strumento importante per il cittadino per orientarsi in un mercato che a volte è confusionario, tra le leggi del 110, successioni, altre normative. Diciamo che è uno strumento, secondo me, importante, che vede più professionisti insieme, dove diamo un servizio al cittadino di consulenza gratuita, che secondo me è una cosa molto importante in questo momento. E in particolare noi teniamo a creare una specie di cultura della prevenzione giuridica, nel senso che il cittadino è opportuno che sia informato sulle problematiche legali, in questo caso legate all'acquisto di un immobile, il più presto possibile, in modo che possa affrontare un acquisto nel modo più informato possibile, perché per esercitare la propria libertà di acquistare, deve essere prima di tutto informato e noi vogliamo anche evitare che queste informazioni, in un certo senso, anche se è una goccia nel mare, vadano ricercate su luoghi anonimi e formali, come internet e cose di questo genere. Quindi anche un servizio alla cittadinanza festo-festo, per così dire. Orienta Casa, l'abbiamo visto, è un'idea, un servizio, una novità, una grande innovazione voluta dal Comune di Pesaro, per permettere a tutti coloro che hanno problematiche, ma vogliono anche cogliere opportunità che possono essere legate alla gestione della casa, ad avere dei consigli, dei suggerimenti. E infatti, Assessore, questa è davvero un'idea che ci permettiamo di dire buona, condivisa peraltro con associazioni importanti, la FIAIP delle agenzie immobiliari, l'Ordine dei commercialisti, società che sono come l'Auxilia, proprio a livello finanziario, il Collegio Notarile, cioè tutti quelli che sono gli attori che intervengono nella gestione della questione casa. Esatto, un progetto che partirà dal 18 di novembre, sarà attivo ogni due giovedì, dalle 15 alle 17, gli utenti si potranno avvicinare allo sportello in forma servizi su prenotazione e ci saranno appunto i professionisti disponibili a dare delle informazioni e a chiarire quelli che sono alcuni dubbi su tutte le tematiche che riguardano appunto la casa, quindi canone di locazione, piuttosto che affitti, e quindi magari cose che gli esperti sicuramente possono indirizzare, meglio un cittadino che si approccia a quello che può essere un acquisto, piuttosto che un canone di locazione. Sì, per esempio c'è una pubblicità che va in onda sui canali nazionali che dice vuoi orientarti bene su come fare, come utilizzare i vari bonus per le piastrelle di casa e comincia a parlare di derivate, di cose ingegneristiche che sono effettivamente di difficile comprensione per i cittadini in un comune. Ecco, considerate che questa è una grande opportunità, per esempio, per capire bene come orientarsi nel mondo dei bonus, che cambiano ogni anno, come vediamo, cambieranno già il prossimo anno rispetto a quelli che sono stati utilizzati fino al 2021, e quindi anche in questo caso una grandissima opportunità per i nostri cittadini negli uffici di Piazza del Popolo 1, praticamente sotto il comune. Esatto, allo sportello in forma servizi. Allo sportello in forma servizi che già è operativo su tante e su tante altre tematiche. Mila della Dora, l'abbiamo detto già prima, è un assessore con tante deleghe, io ve ne leggo qualcuna, politiche giovanili, quartieri, e ce n'è una in particolare che mi sta, ci sta molto a cuore, è quella lo sport. Una sportiva, un passato reale di sportiva, un arbitro calcistico, forse se non avesse fatto carriera politica, oggi l'avremmo vista, chissà, ad arbitrare la Champions League, gli europei, perché le donne stanno arrivando anche lì, giustamente, ma noi vogliamo celebrare una grande vittoria, una grande vittoria della nazionale italiana sorde, questa squadra di pallacanestro che è, per certi versi, la creatura di due pesaresi puro sanque, che sono Beatrice Terenzi ed Elisabetta Ferri. Questa mattina le due giovani, le due ragazze, le due ragazze da sempre vicine proprio allo sport, da sempre vicino hanno inventato la nazionale delle sorde, sono state addirittura insignite e premiate dal sindaco di Pesaro per la loro vittoria. E anche in questo caso, dopo la foto, vediamo il servizio. L'Italia a vincere il campionato e l'Unione! Un esatto storico mai in Italia è successo che una squadra di basket, femminile e maschile, vincesse un titolo europeo. Ne siamo orgogliose e fiere perché è nata a Pesaro, non solo grazie a noi, ma grazie alle sedi sordi Pesaro, grazie a Pietro Pozzori, che fu il primo allenatore, e appunto anche a Cinzia Carloncini, che ci ha aiutato a organizzare i primi allenamenti nella palestra di Borgo Santa Maria. Beatrice ci ha ricordato i protagonisti delle origini, ma andiamo anche sul presente di chi ha portato questo trionfo. Sì, anche qui c'è un cuore pesarese, perché la nostra allenatrice è Sara Braida, l'abbiamo conosciuta proprio a Pesaro, quando lei era una giocatrice dell'Olimpia Basket. Siamo diventate amiche e in quel momento usciva, dopo il primo anno di esperienza, a Mary-Anne Dillier, che anche lei ha vissuto qua in città, che si trasferiva e quindi avevamo bisogno di un altro coach. Abbiamo chiesto a lei e ha dato la sua disponibilità ed è con noi da ben nove anni, dal 2012. Quindi ha visto proprio l'evoluzione di una squadra che prima non sapeva giocare a palacanessa, diciamo la verità. Noi avevamo trovato due ragazze che veramente militavano in squadre udenti, perché ricordiamo che noi, essendo l'unica squadra sorde, le ragazze devono per forza giocare con le udenti, bisogna essere abbastanza forti per poterlo fare. Quindi all'inizio non riuscivamo a trovarle, ma c'erano, erano nascoste e le abbiamo scovate piano piano. All'inizio la squadra aveva atlete che provenivano da altri sport, abbiamo avuto gente che giocava a ping pong, a calcetto, che faceva atletica, avevano solo voglia di fare sport. E dopo, grazie a Sara, c'è stato proprio un cammino anche tecnico, oltre che caratteriale, che ha portato ad avere una squadra vera. Diciamo che dal 2016, con la prima medaglia a Salonico, agli europei di Salonico, c'è stata la svolta. Da lì abbiamo cominciato un altro tipo di cammino. Ecco, quindi siete arrivate a Pescara con la convinzione di dire ok, proviamo a vincere? Veramente ci hanno messo molta pressione addosso, anche la federazione, la FSI, a cui noi siamo affigliate, grazie alla quale facciamo questa attività, aveva sparso la voce a Pescara che noi fossimo la squadra favorita. Questa cosa ci aveva messo un po' di ansia addosso, soprattutto alle ragazze, perché è vero che nelle ultime competizioni erano sempre andate sul podio, però tra vincere la medaglia di bronzo e la medaglia d'oro sai bene che mancano due partite, cioè bisogna vincere la semifinale, che non avevamo mai vinto, eravamo sempre usciti in semifinale, e poi bisogna vincere la finale, che è lo scoglio più duro, perché a quel punto sai già di avere una medaglia al collo, oro o argento, e c'è il rischio anche di non entrare con la stessa rabbia di quando sai che se perdi sei eliminato, quindi è stato molto duro il primo tempo, anche perché sugli spalti c'erano tutte le famiglie, i genitori, gli amici, visto che giocavamo in Italia, e loro erano emozionatissime, quindi dopo negli spogliatoi l'allenatrice ha dato una bella strigliata e si è riusciti a tirar fuori il carattere che serviva per portarla a casa. La vostra è una carriera professionale spesa interamente nel giornalismo, nello sport e in particolare anche nel basket, qual è stata all'epoca la molla che vi ha fatto unire lo sport a una disabilità che presumo conoscevate marginalmente? Sì, conoscendo l'SD Sordi Pesaro, appunto la Carloncini ci disse che non esisteva una squadra di basket in Italia, femminile, maschile e c'era, e quindi mi ha deciso di costruirla a due anni prima, precedenti ai mondiali di Palermo 2011. Un mondo nuovo che ho imparato a conoscere, a vivere piano piano, la federazione sport sordi mi ha dato questo ruolo, appunto appena ho creato la squadra insieme a Betta, e niente, il mio ruolo è quello di manager, cioè di trovare giocatrici, di creare la parte logistica dei viaggi, dei trasferte, dei sponsor, tutta la parte che è fuori dal campo, mentre Elisabetta si occupa della comunicazione. A inizio era dura mandare comunicati e farseli pubblicare, ora invece ci cercano per intervistare ragazze, per creare, per raccontare la nostra impresa. Una vittoria straordinaria, Mila, una vittoria che ci riporta anche veramente a un concetto fondamentale, il concetto dell'inclusione, è la dimostrazione che la disabilità, se ci fossero le condizioni, perché non fosse davvero tale, in realtà non esisterebbe. Esatto, un progetto che è nato oltre dieci anni fa, appunto come dicevi tu, dalla volontà di Beatrice ed Elisabetta, e l'attuale coach che era presente anche allora, Sara Braida. E quindi diciamo la tenacia, la determinazione di queste tre donne, hanno fatto sì che oggi, insomma siamo qua a celebrare, le atlete vincitrici del campionato europeo di basket sorde. È un progetto che loro ci hanno creduto fin dall'inizio, hanno coinvolto tutta la città, perché dalla pubblicazione del libro, al raccontare, al trovare gli sponsor, a coinvolgere, quindi diciamo sono delle protagoniste, ma che hanno reso protagonista un'intera città. Veramente hanno reso protagonista queste meravigliose atlete, queste meravigliose ragazze, che noi abbiamo avuto anche l'occasione di vedere in diverse occasioni, che si meritavano questo risultato, peraltro con una vittoria sulla Russia, di soli due punti, in una partita tiratissima, davvero complimenti a loro, davvero complimenti a Bea e a Betta, che peraltro sono state, Betta è stata, e ne abbiamo parlato di questa cosa anche un paio di giorni fa, in occasione di Insieme al Canestro, e la vedremo anche la settimana prossima, ospite di Paolo Pagnini. Mila Dell'Adora, abbiamo parlato di tante cose, io non posso che ringraziarti, per la tua, come sempre, proverbiale gentilezza, e proverbiale proprio cordialità, anche nell'affrontare temi, che riguardano così da vicino, l'amministrazione e la tua vita. Niente, grazie a voi, grazie a Rossini TV per questa opportunità. Perfetto. E salutiamo ovviamente tutte le persone che ci stanno seguendo. Un saluto carissimo a tutti voi, ascoltatori e ascoltatrici, e l'appuntamento è rimandato esattamente fra due settimane, come vedete con lo sfondo della nostra magnifica palla di Arnaldo Pomodoro. Grazie. 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 Grazie.